C'è stata una sparatoria negli Stati Uniti d'America, dove pensate ci sono stati 12 feriti e un morto. Questa sparatoria ha coinvolto un supermercato a Collierville, non molto lontano da Memphis, nel Tennessee. L'uomo che ha aperto il fuoco poi si è ammazzato, si è uscito. La polizia non ha ancora fatto sapere se il killer era una persona che lavorava in quel supermercato oppure era un ex lavoratore del supermercato. E' un episodio ovviamente grave che getta una ombra completa proprio su questa condizione, chiamiamola, di vita, su questa condizione, chiamiamola, proprio, relativa al supermercato in questione. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari udenti di Youtube, ripeto, il bilancio parla chiaro, 12 feriti in totale e un morto, una persona di genere maschile che purtroppo ha perso inevitabilmente la vita. Detto ciò, grazie a tutti, cari udenti di Youtube, iscrivetevi, mi raccomando, al canale Narrato Viteriano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto negativo e al prossimo video.